Io leggo perché ho preso il vizio, ah no, io leggo perché non ho altro da fare, io leggo perché siamo in pochi, io leggo perché ho tempo, io leggo poco perché non ne ho, e io vorrei leggere di più, te lo leggo degli occhi, io leggo Braille, che non è un'autore francese, la ridiciamo, anche perché ho visto che i grandi non hanno sorriso, ma la ridiciamo. Io leggo Braille, che non è un autore francese, non è carino, eh? Io leggo veloce, io leggo a voce alta, io leggo perché non mi piace alzare la voce, io leggo anche per addormentare, io leggo per sognare, io leggo il contrario, io leggo le carte, io le divoro, io le rileggo, io leggo tutto il fianco, io leggo anche i bugiattili dei medicinali, io leggo che è un piacere, quella anch'io, eh? Io leggo in piedi, a letto, in tram, in sala d'attesa, in ascensore, a tavola, accesso, io leggo e annoto, e sottolineo, e segno, io leggo di nascosto, io leggo per fare dispetto, io leggo, io leggo perché scrivo, io scrivo perché leggo, io leggo perché cresco, io leggo perché questo mondo, non mi piace, io leggo per cambiarlo, Io leggo per evadere, scappare, 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 io leggo per ev